Ciao a tutti e benvenuti a OVS Active, io sono Fabio Inca. Oggi voglio farvi vedere delle semplici attivazioni che puoi fare in un ufficio o dove vuoi e quando vuoi. Partiamo subito con la prima. Braccia su, attivazione per le scapole. Si devono addurre. Uno, due e ancora. Vediamo un po' cosa succede. Si devono toccare le scapole per evitare questa anteposizione delle spalle che è tipica di chi sta tante ore al computer. Quante volte farla? Tutti i giorni, quando vuoi e dove vuoi. L'importante è che lo fai. Tanto non sudi, tanto non succede nulla. Puoi farlo anche in ufficio, ok? Secondo esercizio. Abbracciamo un ginocchio e subito l'altro. Qui manteniamo la postura come abbiamo appena imparato. La schiena è dritta, abbraccia bene il ginocchio. Mobilità per le anche. Ed è un'ottima attivazione anche per le nostre gambe. Poi possiamo anche prendere il nostro piede in questo modo. Uno. E cambio piede. E due. Vedi com'è importante anche attivare l'equilibrio e la propriocezione? Vediamo l'ultimo esercizio. Prendiamo il piede dietro, come quando facciamo stretching, però in maniera dinamica. Questo è ottimo anche prima di andare a correre. Ma lo puoi fare anche in ufficio. Vedi quanto è facile riuscire ad attivarsi anche in situazioni di non allenamento. Per questo è importante sapere cosa fare. Ci vediamo al prossimo video tutorial. Fabio Inca, OVS Active.